Ogni tanto mi prendo qualche momento di riposo, di riflessione o anche di piacere. Beh, i miei piaceri sono essenzialmente la lettura. E mi sono messo a leggere un libro consigliato mio da un amico, un amico che si chiama Abbondio, non è prete per fortuna. E che mi ha consigliato di leggere un libro di Bruce Marshall, l'autore grande romanziere inglese, che ha scritto famosissimo Il mondo, la carne e padre Smith, la vita di questo sacerdote che ha la vocazione, poi diventa un piccolo viceparroco, poi parroco, e poi via di seguito, un vero santo, diciamo così, con tutte le sue problematiche, le sue sofferenze, i suoi dubbi, i suoi sbagli, ma una vita veramente bellissima che finisce in maniera commovente. A me mi ha fatto arrivare le lacrime la fine della lettura di questo romanzo. Oppure autore di quel grande romanzo che è Il miracolo di padre Malachia, che è il romanzo dell'incredulità, questo padre Malachia che sposta una discoteca da un posto all'altro, per miracolo, ma la gente non ci crede. La gente che andava lì, sapeva l'indirizzo, sapeva tutto, è così scombussolata che nega l'evidenza e diceva no, no, è sempre stata lì. E davanti a questa stolida incredulità, perché l'incredulità è veramente la stoltezza elevata sistema di vita, cosa fa padre Malachia, che è così deluso, che fa il miracolo inverso? La fa tornare dall'altra parte. E anche davanti a questo ulteriore gigantesco miracolo, ancora una volta, l'idiozia della gente l'ha vinta. Perché? Perché torno a dire, ma non è mai stata dall'altra parte, è sempre stata qui, effettivamente. E quindi, ancora una volta, l'incredulità è vittoriosa. E questo, purtroppo, il dramma, il dramma del mondo in cui viviamo, non solamente oggi, ma è sempre stato più o meno così. Se ci pensate, Gesù Cristo è stato ammazzato dal Papa del tempo, che era Caifa, dai sommi sacerdoti, dai cardinali, dai vescovi, dai preti del tempo, dai teologi del tempo, i farisei. E oggi? Oggi è la stessa cosa. Non è che sia cambiato il mondo. E come al tempo di Cristo, la gente che prima lo acclamava e lo benediceva per i miracoli che faceva, a un certo punto, cosa fa? Gli tira gli escrementi, lo insulta. La stessa cosa oggi. Anche il popolino, o meglio, il popolaccio bue, cosa fa con Cristo, cosa fa con i santi? Fa la stessa identica cosa. Ma la cosa grande e bella è che Cristo salva questo mondo, che non meritrebbe di essere salvato, ma di essere buttato nel burrone, e io con tutto il mondo, ma lo salva proprio prendendo su di sé il rifiuto del mondo, prendendo su di sé lo scherno, gli insulti, le vestemmie, la profanazione. prende su di sé il peccato del mondo e in questo mondo lo salva, o quantomeno potenzialmente lo salva, perché effettivamente noi sappiamo che per chi non vuole non basta tutto il sangue di Cristo per salvarlo, perché Cristo, perché Dio Padre, perché lo Spirito Santo rispettano la nostra libertà. E quindi il buon ladrone che dice ricordati di me nel tuo regno, io sono qua a crocifisso giustamente, e si salva, e quel giorno è il primo santo canonizzato da Cristo stesso. E il cattivo ladrone, che era cattivo prima, è rimasto cattivo, che lo insulta, dice ma dai, salva te stesso e salva anche noi. Lui non si pente, e non si pente, e fa la fine che fa. Insomma, poi non so da che parte si è andato. Comunque non è un santo canonizzato. Ho letto questo bellissimo romanzo, Urbano Nono, allora consigliatomi dall'amico Abbondio, questo nome davvero ridicolo, perché ci ricorda il prototipo del prete, come ce l'ha descritto magistralmente Manzoni, cioè il vigliacco, il pusillanime, la nullità umana, che però alla fine diventa, nonostante la sua debolezza, uno strumento di salvezza e di grazia di Dio lo stesso. In questo modo si vede che la grazia non viene dall'uomo, non viene dai preti, non viene dalla Chiesa come istituzione umana, ma viene veramente dal cielo. E Manzoni in questo è stato davvero un maestro, ci ha spiegato che la provvidenza è qualche cosa di divino, e certamente a volte si serve anche degli uomini, di Fra Cristoforo o di altre cose di questo genere, o dei grandi santi, ma si serve anche di questa gentucola, queste mezze calzette, che poi sono effettivamente il prototipo del clero di quel tempo e oggi forse ancora di più. In questo libro Urbano Nono io mi sono divertito perché i primi due capitoli sono entusiasmanti. C'è il conclave, i 99 cardinali devono eleggere il nuovo papa, lo eleggono e il papa deve scegliere un nome. E che nome sceglie? Marx I. Finalmente un papa aperto al mondo. È ambientato nel 1990, scritto nel 1973 questo romanzo, quindi quando ancora c'era questa furia, questa sbornia conciliare, post conciliare, che erano tutti ubriachi, l'ubriachezza adesso a distanza di quasi 70 anni ancora non è finita del tutto, ma i risultati della sbornia ci sono tutti perché il fallimento delle ansie, delle fregole teologiche conciliari o post conciliari hanno dato il loro risultato, un 5% della popolazione italiana che va in chiesa, mentre prima era il 95%, quindi la dimostrazione nei fatti, non nelle parole che hanno sbagliato tutto, ma proprio tutto e non c'è da salvare niente, è nei numeri, perché i numeri sono al di là della interpretazione. Allora, nel pieno della fregola post conciliare, Marshall scrive questo romanzo dove c'è un papa che prende come nome Marx I e si rifà quindi effettivamente al comunismo, ma ci sono ancora i cattivi cardinali tradizionalisti e fra questi il camerlengo che annuncia al popolo il nome di questo papa, e non dice Marx I, ma dice Marco I, e il papa però non lo smentisce e va avanti, fa il primo mese della sua attività, fa le sue cosette, ha le sue aperture e via di seguito, e poi a un certo punto decide di andare oltre la cortina di ferro, cioè in terra dei comunisti, in Polonia, a Varsavia, a partecipare lui in persona, in mezzo ai cattivi comunisti atei, al primo convegno eucaristico mondiale in terra comunista, a Varsavia. Grande, grande, non scandalo, ma grande risonanza a questo fatto straordinario che un papa vada in terra comunista, prende la macchina, arriva a Fiumicino e lì a Fiumicino lo intervistano i giornalisti, ovviamente questa genia di gente di cui non diciamo nulla, perché San Cosè Maria ci ha insegnato che quando non possiamo parlare bene di qualcuno è meglio tacere, e lo intervistano e gli chiedono ma allora è vero che vuole aprire per sacerdoti che si sposino e via di seguito, e lui sì sì eccetera eccetera, ma è il papa? No comment, su quello non commenta. Va bene, poi prende l'aereo per andare a Varsavia e cosa succede durante il viaggio? non si sa bene cosa succeda, se i comunisti tirino giù l'aereo con un misside o con che cosa, muore il papa, muoiono tutti i cardinali che erano con lui, non tutti i cardinali, ma quelli che erano con lui che lo accompagnarono, che erano cardinali progressisti. Nel giro di un mese quindi c'è un nuovo conclave e nel nuovo conclave viene eletto un nuovo papa e un papa finalmente tradizionalista, Urbano Nono, che quindi cambia la solfa, cambia la musica della Chiesa, non più queste spinte in avanti verso il comunismo, verso tutte queste bestialità, ma la buona dottrina, la liturgia giusta, c'è stato il concilio Vaticano II, ma si racconta nel romanzo con queste fregole di cambiare la lingua, eccetera, eccetera, no, torniamo alle cose giuste. Se non che, purtroppo, e questa è una cosa che fa tristezza, ma è vera, questo papa con tante buone idee, come spesso capita ai buoni, non è capace di tenere la tigre, di cavalcare la tigre, e per questioni politiche, con la Russia comunista, con l'America, con il presidente degli Stati Uniti, con l'Inghilterra, con la Francia, con la Spagna, e via di seguito, riesce a farsi di tutti i nemici, sostanzialmente. E non vi dico come va a finire, perché non vi voglio togliere il piacere del finale, in cui in realtà non consiste il romanzo. Il romanzo consiste in realtà in una critica a una Chiesa che ha perso la rotta, ma anche in realtà consiste nella critica a quei cristiani buoni, a quei cardinali buoni, a quei buoni cattolici, che però non hanno la forza, non hanno il polso per governare quello che Dio gli ha dato. Sì, hanno dei momenti in cui hanno il coraggio di mettersi contro il mondo intero, ma poi non vanno fino in fondo. Vi voglio leggere qualche frase di questo romanzo che sono delle piccole perle. Il romanzo non è chissà che cosa, non è una roba straordinaria, ma è bello, mi ha divertito, mi ha fatto un po' sorridere, anche perché ha anche un forte umorismo questo autore, ma ci sono alcune perle che sono veramente da leggere. A un certo momento Papa Urbano IX dice è nostro desiderio cattolicizzare il cattolicesimo e renderlo una volta di più quello che, a nostro parere, è l'unica solida alternativa alla miscredenza. Quindi o si è miscredenti o si è cattolici, ma per essere cattolici bisogna essere cattolicizzati, perché il cattolicesimo, così com'è, è una minestra tiepida di quelle che Dio vomita. Un'altra bella frase che dice questo Papa nel romanzo è la Chiesa di Dio deve smettere di lasciare sconcertati e perplessi e tornare al suo antico compito di insegnare il minimo al massimo. Insegnare il minimo, il minimo per salvarsi, ma lo deve insegnare al massimo. Purtroppo oggi cosa succede? Si insegna il massimo, cioè vogliono insegnare, credono di essere più spirituali dello Spirito Santo, ma al minimo e fanno veramente schifo e chi si le segue questi qua? Propongono le cose al minimo proprio, al minimo sindacale? No, no, proprio con una modalità che fa schifo e difatti la gente se ne va. È meglio andare a teatro o è meglio andare al cinema piuttosto che andare in chiesa oggi. Un'altra frase che mi ha colpito è la via della vera religione è così poco seguita che frati e suore, i quali cominciano sinceramente ad ascoltare la voce della vocazione, hanno più da temere dagli appartenenti alle loro stesse comunità che da tutti i demoni. e questo l'aveva detto Santa Teresa d'Avila. Forse i papi, parlando dell'amicizia che desiderano avere con Dio, avevano più da temere da parte dei cardinali che da parte degli anarchici o da parte dei comunisti. E questo purtroppo è un'altra delle grandi verità. i primi nemici, i primi che impediscono l'emangelizzazione, i primi che castrano la fede sono i preti, sono i cardinali, sono i papi, sono i parrocchiani, i parrocchiosi, quelli che ce l'hanno proprio che sono integrati nel sistema e che castrano lo Spirito Santo alla fine, se si potesse castrare. Comunque impediscono, sono di totale impedimento, come diceva Santa Teresa, ma lei era una santa, questi qua credono invece di fare del bene. Un'altra frase che mi ha colpito molto perché, insomma, mi tocca da vicino, Papa Urbano IX dice A noi non interessa la prudenza elementare o superiore. Nostro Signore non fu mai prudente e lo scarlatto che porta il cardinale gli è stato dato affinché egli si mostrasse intrepido fino alla morte e allo spargimento del suo sangue. Io vorrei che questo se lo ricordassero quei cardinali che quelli cattivi non mi ascolteranno mai e come non ascoltano il nostro Signore, evidentemente, ma quelli buoni hanno il rosso, vuol dire che sono disposti a spargere il sangue per la fede, per amore a Gesù Cristo, per amore alla verità, alla verità che salva. non possono continuare a tacere, a tacere perché sono sotto una dittatura ecclesiastica. Andate sino in fondo, combattete sino in fondo, se bisogna schiacciare l'infame, schiacciare l'eretico, fatelo, se si deve denunciare la menzogna, se si deve denunciare una Chiesa che si è trasformata da strumento di salvezza in strumento di compromesso con il mondo, fatelo pure, vi tolgono il cardinalato, pazienza, è sempre molto meno che spargere il sangue per amore a Gesù Cristo. Vi ammazzano? Ringraziate Dio, vi cacciano via, vi sospendono a divinis, vi riducono lo stato laicale? Benedite Dio! A me mi hanno tolto l'insegnamento di religione, la curia, la mia curia mi ha tolto l'insegnamento. È una medaglia d'oro al valore militare, se questo lo si fa, non per i propri peccati evidentemente, ma per amore a Gesù Cristo, per amore alla verità. Allora, qua vi vorrei leggere tante altre cose, tante altre perle che ci sono in questo romanzo, ma non ve le leggo. Se volete divertirvi, ridere un pochino e prendere coraggio per la vostra fede che è l'unica che salva, leggetevi questo romanzo o altre cose purché vi aiutino sulla via della verità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.